Ci vuole il bike sharing, è una delle cose su cui puntare per avere una migliore mobilità. Certo, sono proprio contenta, almeno se non c'è più lo smog. Entusiasmo a Vicenza per l'annuncio dell'introduzione del servizio bike sharing, il servizio di noleggio di biciclette anche elettriche per la mobilità sostenibile a favore dei residenti, ma anche dei turisti e dei pendolari che preferiscono usare un mezzo agile per gli spostamenti. Al via la gara d'appalto per la fornitura di almeno 350 biciclette e l'installazione di oltre 200 nuove rastrelliere, un servizio inedito per la città berica che farà tesoro dell'esperienza maturata nelle altre città operando una scelta precisa. La scelta è soprattutto gestionale a tutela dell'unicità del nostro centro storico, all'interno del quale le biciclette potranno essere bloccate e quindi si termina il pagamento del servizio unicamente sulle rastrelliere. Questo è un incentivo forte perché se si abbandonano in giro aumentando il degrado del centro storico chiaramente non si chiude il noleggio. All'esterno del centro storico invece diversamente dove la città si presta al free floating puro, diamo un incentivo a chi le chiude sulla rastrelliera. Quindi c'è un doppio sistema di disincentivo e incentivo che dovrebbe permetterci di avere una città ordinata.